Che esce nella stanza accanto? Credo che le stia prendendo. Ha bisogno del tuo aiuto. Me ne occupo io. Voi restate qui. Partisci l'anguola, più forte! Ah, dovrei fare qualcosa di più. Accidenti! Chiama Jordan alla rade. Dimmi che non vuole parlare. Dici dove è andata per la stanza. Parla o ti taglieremo l'altra mano. Fate quello che volete, io non parlo. E invece sì. Sta per arrivare Harley Quinn. Lei sa come fare per sogliarti la lingua. E non ti conviene scoprire che metodi usa? Batman ha fatto fuori uno dei nostri! La messina! Oddio, ho trovato qualcosa da questa parte! Sveglia! Mi senti? Sveglia! Qualcuno sa come uscire! Non piano, oltremmo saremo noi, capito? Lasciatelo qui, sparfagliatevi e trovate Batman! Aspetta, aspetta, vengo con te! Ha fatto fuori uno di voi! E non in modo molto gentile! Hai sentito il capo? Povero mio! E ce n'è uno anche qui! Che cosa ti è successo? Che cosa facciamo? Daci! Grazie! Dov'è andata la dottoressa Young? Le ho detto di scappare, quei tipi l'hanno cercata. Le ho consigliato di andare nel suo studio a nascondersi. È lì che tiene i suoi appunti? Credo di sì. Era ansiosa di andare nello studio, è da quella parte. Quanto tempo fa è successo? Devo trovare i suoi appunti prima che Joker ci metta le mani sopra. Venti minuti, forse di più. Cos'hanno di importante quegli appunti? Joker li vuole. Questo li rende importanti. Resta qui, vado a cercarla. Non c'è problema. Provo con la radio per vedere se c'è in giro qualcuno. Grazie dell'aiuto là dietro. C'è nessuno. Abbiamo bisogno di aiuto. Passo. Anche tu cerchi gli appunti, eh, Batman? Buona fortuna. In questo momento ho qualcuno che sta lavorando, scatocore. Sì, sarà presto a sputare la formula. Per non parlare di questo, i mangiati che saranno caderemo. In questo momento, l'altro, quella formula sarà via. Perché non ti arrendi subito? Avanti, gettati a terra e muori una volta tanto. Fatti questo favore. Là un cuore aprirsi. Batman, penso di aver capito. L'hai detto anche dieci minuti fa. Se vuoi, dindelo tu. Io non lo faccio. Se può aprire un secondo all'altro, maledizione. Gli scagnozzi di Joker cercavano di entrare nello studio. Pare che non siano riusciti a passare dall'ingresso principale. Hanno dovuto trovare un altro accesso. Qualcuno è riuscito ad arrivare alla cassaforte. Il problema è chi l'ha aperta. Nessun segno di scasso. Chi l'ha aperta conosceva la combinazione. Vediamo. Bene, la dottoressa Yang è arrivata a prendere gli appunti prima di Joker. Li ha presi e li ha nascosti. Devo seguirla e scoprire dove li ha nascosti. Oracle, sono sulle tracce della dottoressa Yang. Ho dovuto impostare lo scanner per visualizzare le impronte più recenti. Se le seguo, riuscirò a trovare gli appunti. Spero che funzioni. Per tua informazione, la polizia ha trovato una delle bombe di Joker in centro. Era carica di marzapane e gattini. Come sospettavo. Un'altra delle sue tattiche diversive. L'azione vera è in scena ad Arkham. Joker aveva ragionato. È qui! Prendetelo! Fatelo, Nero! Primo colloquio con il paziente. Il paziente mi è stato portato dopo l'incidente con il dottor Massi. Ha avuto ogni tipo di esaurimento nervoso. Penso che tutto abbia avuto origine in seguito alla testa della moglie. Finora il paziente non ha avuto parola. La sostanzione non si riscontra alcuna vita mentale. È come se ciò a cui ha assistito abbia fatto scattare un collasso mentale. C'è qualcuno qui dentro! È lui! L'abbiamo trovato! Vota giù la porta! Prendere nota! Come ha... Non lo so! Devo tardissimo! Chi è stato? Batman! È qui! Deve essere stato lui! Forse è stato Zaz! Quello è un pazzo! E... C'è un pazzo! Allora dove l'hanno portata? Non ho idea. Joker non ci comunica i suoi piatti. Era spaventata. Forse è qui. È qui! È qui! È un pazzo! Benvenuti per la diplomatia! la storia è importante ti è successo basta farvi andare a restare sentirai male non si inizia a leggere dall'ultima pagina vergogna un figlio ordinante un figlio di una casa scarata che farà fare un bel sorriso a quei dottori così tristi non si inizia a leggere dall'ultima non si inizia a leggere dall'ultima non si inizia a leggere Grazie Batman, se ne sono andati tutti? Sì, siete al sicuro Che cos'è successo? È stato tutto così veloce Alcuni pazienti hanno fatto irruzione E hanno iniziato a rompere tutto Forse cercavano qualcosa Bill ha cercato di resistere ma erano in troppi Hanno preso la dottoressa Young Era entrata qui e loro l'hanno seguita Mi spiace, quando sono arrivato li ho trovati legati E la dottoressa Young era sparita Qualcuno parlava alla radio Mi sembra di aver capito che dovessero trovarsi nello studio del direttore Dunque la dottoressa Young stava cercando di nascondere i suoi appunti Quando è stata catturata Dove li hai nascosti? Oracle, ho trovato la formula della dottoressa Young Bene, significa che sei riuscito a fermare Joker Non è mai così semplice con lui Che cos'hai? Batman? No, la formula no Adesso che cosa faccio? Chi può aiutarmi? Luigi? Ti stai a sprovare? Non mi guarda L'ho incontrato Non posso credere che tu abbia voluto rivedere quel film Bruce Andiamo, Alfred ti sta aspettando Scusa, papà Non esagerare, Tom Gli è piaciuto così tanto Alfred aspetterà Andiamo, Bruce Dove ci stai portando? Possiamo tagliare da questa parte Ma inizia a piovere Bruce è stanco Non possiamo aspettarlo qui Forza, andiamo Ci siamo quasi Adora, signore Oddio Per favore, che bisogno c'è? Perdo, non so io Lo stavo Non teneremo tutto Tom Tom Oddio, oddio, Tom Grazie Sta zi Sta lontano da me Scappa, Bruce Perdo, non so io Forza, da questa parte, sediti nel mio ufficio. Sta bene. Ma certo. Un ragazzo così, con tutti quei soldi, vuoi che non stia bene? Taci, dai, ha solo otto anni e vece a solo. I soldi non sistemano tutto. Sarà come dici, Gota. Sta arrivando il maggiordomo a prenderlo. Capito? Ha un maggiordomo. Mi dispiazza, devo solo farti alcune domande. Posso offrirti qualcosa? Stai bene? So che non hai voglia di rispondere, ma è l'unico modo se vogliamo prendere il colpito. Perché l'ha fatto, signore? Perché? Non lo so. Succede in città. C'è qualcosa di storico a questo posto. Ascolta, chiama il DJ. Che cosa stai cerchiando? Succede in città. Non c'è via di funga. Non c'è via di più. 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 Una forza di uomini disturbati in grado di distruggere Gotha, ma senza la formula non può farcela. Io l'ho nascosto. Così adesso a Venom è la sua formula. mio Dio, c'è via di più. che cos'è via di più. aiuto, c'è via di più. Oracle, c'è via di più. i protocolli di sicuro. e via di più.